Avrebbe messo a suo quadro un intero appartamento alla ricerca di qualcosa di valore, ma nella fuga avrebbe perso il cellulare che di fatto lo ha incastrato. Per un trentenne così il 2024 è iniziato decisamente con il piede sbagliato. Il giorno di Capodanno l'uomo, dopo aver sfondato la porta d'ingresso secondaria di un appartamento di via Diaz a Sansepolcro, lo avrebbe messo a suo quadro rovistando tra gli effetti personali, svuotando cassetti e rompendo vasi, una ricerca spasmodica conclusa solo con il rientro dei proprietari che lo hanno costretto ad una fuga precipitosa. I carabinieri intervenuti sul posto nel corso del sopralluogo e dei rilievi hanno trovato uno smartphone che non apparteneva a nessuno dei residenti dell'abitazione. Lo hanno quindi sequestrato ed analizzato risalendo all'intestatario, una società che di fatto è una pizzeria del posto. Quel cellulare infatti veniva solitamente utilizzato per ricevere gli ordinativi dei clienti e le successive consegne. Ulteriori indagini sono ancora in corso ma il cerchio è stato stretto attorno ad uno dei collaboratori dei titolari della pizzeria che ora dovrà spiegare alla magistratura come mai il telefono a lui affidato per lavoro si trovasse invece nell'appartamento dove è stato ritrovato dai carabinieri.